Dall'Accademy dei Blues nella quale entra giovanissimo passando per la Champions League vinta nel maggio 2021 fino ad arrivare all'AS Roma Questa è la storia di Tammy Abram Nel biennio 14-15 e 15-16 Abram gioca ed impressiona nella Premier League nel 21 e nella UEFA Yacht League Il Chelsea è una squadra di assoluto livello e si impone per due anni consecutivi nella Champions League dei giovani Grazie alle prestazioni dell'attaccante inglese Il Chelsea lo manda in prestito prima in Championship al Bristol City poi in Premier alla Swansea L'anno successivo il Chelsea decide di mandarlo nuovamente in Championship E individua nella Stoneville il club perfetto per far esplodere definitivamente il ragazzo dall'altissimo potenziale E la scelta giusta 37 partite, 25 gol e l'accesso ai playoff Abram gioca e guida la squadra alla promozione in Premier League Con cui è stata battendo in finale il Derby County di Lampard Il resto è storia Grazie a tutti